E' una fotografia tinte fosche, quella scattata da golletta verde lungo le coste campane che continuano a subire la minaccia della mancata depurazione. Su 30 punti monitorati, 16 presentano cariche batteriche elevate. Nel mirino ci sono sempre canali, foci di fiumi e torrenti che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. Una situazione ben nota che in alcuni casi raggiunge record assoluti. E' da otto anni consecutivi infatti che Legambiente assegna il giudizio di fortemente inquinato alla foce del fiume Irno a Salerno, del torrente Savone a Mondragone, del fiume Sarno e dello sbocco del canale di Nicola Pozzuoli. Questo quadro ci restituisce ancora una volta un tratto di costa, quello campano, che ha luoghi straordinari dal punto di vista naturalistico e della qualità delle acque, però ancora oggi molto minacciato da foci di fiumi e fossi, ricordando che questi punti possono poi essere anche una seria minaccia per la costa circostante. Così come non ci meraviglia la bellezza e la limpidezza di alcuni tratti di mare, non ci meraviglia purtroppo neppure il contrario, da molti anni diciamo che la soluzione passa per un sistema adeguato di depurazione.